Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a due episodi inquietanti sotto il profilo della gestione dell'ordine pubblico, entrambi a Roma. Il primo in occasione dell'arrivo di 70 persone in un centro di accoglienza nel quartiere di Torre Maura, circa 30 minori. Abbiamo visto 300 persone addossarsi alla recinzione del centro di accoglienza, rivolgere minacce gravi e insulti razzisti a queste persone. Sono state incendiate auto e camper. Nel secondo caso, nel quartiere di Casal Bruciato, una contestazione messa in atto persino all'interno del cortile nei confronti di una famiglia che aveva ricevuto una legittima assegnazione di un alloggio popolare. Come mai non è stato isolato, nel primo caso, il centro accoglienza, nel secondo il palazzo, difendendo da minacce e difendendo in termini di sicurezza personale quelle persone nell'ambito della gestione dell'ordine pubblico. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie all'interrogante, grazie alle forze dell'ordine che lavorano sempre al massimo e penso ai 20.000 ragazzi e ragazze che nella giornata e nella nottata di oggi si occuperanno di garantire l'ordine pubblico in occasione di quella che dovrebbe essere una partita di calcio e che speriamo rimanga solo una partita di calcio, evidentemente. I due episodi da lei ricordati sono stati ampiamente commentati dalla stampa. Come di prassi in queste occasioni vengono predisposti dal locale commissariato i servizi necessari per il pacifico svolgimento delle attività di trasferimento che infatti sono avvenute in modo regolare. Come invece è documentato, irregolarmente ci sono state minacce e presenze in maniera non autorizzata. Nella seconda delle quali evenienze, quella del 6 maggio scorso, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri ha appena comunicato il deferimento di 17 persone per resistenza pubblico ufficiale ed altre fattispecie di reato all'attività giudiziaria e quindi informative di reato sia per l'una che per l'altra ipotesi dalle forze dell'ordine sono state puntualmente depositate. È chiaro che la gestione dell'ordine pubblico in frangenti così delicati deve essere valutata in stretta aderenza allo specifico contesto dove non di rado devono essere assunte dai dirigenti sul posto decisioni tempestive in condizioni di pericolo e di rischio per le persone. In tutti i casi, anche nei due richiamati, le forze dell'ordine hanno operato al solo scopo di garantire i diritti delle persone minacciate e tutelare la loro incolumità, prevenendo più gravi conseguenze per l'ordine pubblico, garantendo il diritto a manifestare il dissenso nel rispetto delle leggi, fermo restando, come appena comunicato da pochi minuti, il deferimento all'autorità giudiziaria di coloro che sono identificati come autori di reati. Nessun tipo di violenza fisica o verbale sarà mai tollerata né da questo ministro né dalle forze dell'ordine che fanno bene e con coscienza il loro lavoro ogni giorno in tutta Italia. Sì, grazie Presidente. Vede, Ministro, il fatto che siano state denunciate delle persone per reati come minaccia o istigazione dell'odio razziale nel contesto che è oggetto di questa interrogazione non ha molto a che vedere con la gestione dell'ordine pubblico. È questione di polizia giudiziaria e eventualmente poi della magistratura. Il punto è che non è possibile allestire dei set televisivi che consentano per 48 ore di mandare in onda un corpo a corpo tra chi minaccia di morte, ed è il caso di Torre Maura, o chi fa gravi minacce e insulti a sfondo razziale, ed è questo il caso di Casal Bruciato. Vanno interrotte queste attività. Non può consentirsi che ci sia una prossimità di pochi metri o di centimetri tra persone che sono legittime assegnatari di un alloggio e chi intende, senza aver fatto preavviso di manifestazione e senza aver ricevuto alcuna autorizzazione dalla Questura, chi intende manifestare. In base alla nostra Costituzione il dilitto di manifestare va garantito tutelando al contempo la sicurezza e la dignità di ognuno. Lei, Ministro, in queste ore ha detto che nel caso dei manifesti che le annunciavano che lei non era benvenuto in occasione di comizi elettorali a cui partecipava, lei ha detto di non aver dato nessuna indicazione di rimuoverli alle forze dell'ordine e ha detto che finché non c'è un problema di sicurezza per i cittadini e di ordine pubblico ognuno può esporre quello che vuole. Ecco, in questi due casi di cui stiamo trattando si è verificato un problema di sicurezza e di minaccia, che è un reato nei confronti di altri. Ogni manifestazione deve essere svolta a una distanza di sicurezza. Si potevano benissimo consentire manifestazioni a 50 o 100 metri e non creare un'agonia mediatica che evidentemente è stata tollerata. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3, 732, dei deputati molinari ed altri concernente chiarimenti in ordine alla sperimentazione della cosiddetta pistola impulsi elettrici da parte delle forze dell'ordine. L'onorevole Tonelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermatario. Prego. Grazie, Presidente. Signor Ministro dell'Interno, grazie per essere qui a rispondere al presente interpello. Premesso che l'articolo 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 numero 113, convertito con modificazioni della legge primo dicembre 2018 numero 132 e recanto disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale immigrazione. Prevede una sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie municipali, meglio conosciute come Taser. Visto che ad oggi sono 107 i paesi in tutto il mondo in cui la pistola elettrica è già in uso, tra i quali Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya, Germania, Reino Unito, Francia, Germania, Finlandia, Repubblica Ceca, si desidera conoscere a che punto sia la sperimentazione della cosiddetta pistola di impulsi elettrici da parte delle forze dell'ordine e quale gli esiti della stessa d'oggi conseguiti. Grazie. Ministro dell'Interno Matteo Savini ha facoltà di rispondere. Grazie per l'interrogazione. Uno dei primi atti sottoposti alla mia firma quando arrivai al Ministero fu proprio nello scorso mese di luglio il decreto ministeriale con il quale si è dato inizio alla sperimentazione da parte delle forze di polizia della pistola ad impulsi elettrici. La finalità della sperimentazione, che ha dato esiti ampiamente positivi ed è arrivata in dirottura d'arrivo, è stata fin dall'inizio quella di valutare l'effetto deterrente di tale strumento al fine di diminuire i casi di utilizzo delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell'ordine. La fase sperimentale è durata nove mesi e si è svolta in dodici città. Le modalità di sperimentazione hanno tenuto conto di quanto contenuto ovviamente in apposite linee guida secondo principi di precauzione intese con il Ministero della Salute. Ad oggi la pistola impulsi elettrici utilizzata per la sperimentazione è stata impiegata complessivamente 60 volte, in 46 casi dalla Polizia di Stato, 11 dall'arma dei carabinieri e 3 dalla Guardia di Finanza. Nella maggioranza dei casi è stato sufficiente minacciarne il solo utilizzo per risolvere la criticità affrontata. Come ricordato dagli interroganti, col decreto sicurezza e migrazione è stata prevista inoltre la possibilità per i comuni capoluogo e per quelli con popolazioni superiori ai 100.000 abitanti di dotare i propri corpi di polizia locale di siffatta tipologia di armamento. Ciò consentirà per la prima volta anche a livello di enti locali l'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, l'accelerazione di processi di cooperazione fra forze di Polizia dello Stato e Polizie locali. Ho riunito alle 4 e un quarto di oggi pomeriggio al Ministero dell'Interno un Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che ha fra gli altri argomenti all'ordine del giorno proprio l'esame della sperimentazione in atto e sono orgoglioso perché quando si partirà entro quest'estate con l'utilizzo di questa arma non offensiva ma difensiva sia le forze dell'ordine che i cittadini italiani saranno sicuramente più sicuri. Signor Ministro dell'Interno Matteo Selvini, il gruppo della Lega si dichiara pienamente soddisfatto per la risposta ricevuta. Questo strumento sarà di grandissima utilità ed efficacia in tutti i servizi di polizia a favore della brava gente. Il Teser come il Capsicum rappresentano un'eccellente dotazione in grado di prevenire il contatto da parte delle donne e degli uomini in divisa con i soggetti pericolosi. Desidero ringraziare la noma di tutto il popolo delle divise che in tal modo potrà essere esposto in minor misura non solo sotto il profilo fisico materiale ma anche e soprattutto in quello giuridico processuale. È noto infatti che ogni anno solo della Polizia di Stato, per fatti concedenti in servizio, oltre 6.000 operatori sono costretti a ricorrere alla cura dei pronto soccorso ed è altrettanto noto che questi fatti portano, ahimè, conseguenze processuali. Un ringraziamento ulteriore desidero porgerlo da parte di chi sarà oggetto dell'utilizzo del Teser, perché saranno proprio loro ad averne i maggiori benefici. Troppo spesso dimentichiamo che gli operatori delle forze dell'ordine sono chiamati a lavorare con la metà del cielo negativa e molte volte devono affrontare persone che non sono consapevoli delle loro azioni, quali sbandati, soggetti mentalmente disturbati, persone in preda ad allucinazione a causa di sostanze stupefacenti o psicotrope, ubriachi, coinvolti in rissi, violenti, ecc. In tutti questi casi il Teser consenterà di evitare l'utilizzo di mezzi di coazione fisica o le armi da fuoco che hanno una capacità lesiva di gran lunga superiore preservando l'incolumità fisica, se non addirittura la vita proprio dei responsabili dei fatti. Un esempio per tutti. Un ubriaco con un'arma in mano in una piazza follata rappresenta un grossissimo dilemma per chi poliziotto, carabiniere, polizia municipale o altro ha l'obbligo di intervenire. Il Teser è in grado di sciogliere questo dilemma. tema. Grazie ancora Ministro Salvini. Passiamo all'interrogazione 3.733 dei deputati Carnevali ed altri, concernente ai chiarimenti in merito alla vicenda della rimozione di uno striscione da parte dei vigili del fuoco a Brembate nella mattina del 13 maggio 2019 in occasione della prevista visita del Ministro dell'Interno. L'Onorevole Carnevali ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Signora Presidente, Ministro, Onorevole Colleghi. Alcuni fatti. Il 7 maggio viene sequestrato il cellulare di una ragazza per un selfie l'impertinente e al poliziotto viene aperto un procedimento disciplinare. Il 13 maggio, settimo milanese, lei Ministro se la prende durante un comizio, prima con un insegnante, poi pubblicamente con la sicurezza, sfuggendole anche i pito disgradevoli. 13 maggio, 9 del mattino, a Brembate, in un piccolo paese della mia provincia, viene dato ordine dalla questura di togliere ai vigili del fuoco un lenzuolo con la scritta «Non sei benvenuto». Nulla a che vedere con fatti precedenti, un'espressione pacifica di dissenso democratico che qualcuno ha voluto esporre. Non c'erano emergenze, non c'era calamità. Quindi perché? Anche i sindacati le hanno chiesto di abbassare i toni, che il limite è stato superato. Resta il fatto che le istituzioni non sono sue, resta il fatto che le forze dello Stato sono un presidio delle istituzioni e che le forze della Polizia non possono essere relegate a funzione di ordine e di servizio durante i comizi elettorali e la sua attività prevalente. Il Ministro, colleghi, vale anche per voi senza commentare. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Ringrazio per l'interrogazione. Mi occupo di diminuire i reati in questo Paese, che infatti sono calati del 15% nei primi mesi di quest'anno. Colleghi, lasciamo che il Ministro dell'Interno possa svolgere il suo intervento, senza commentare. è solo mio dovere, non è... Naturalmente è così privato il Ministro del tempo che ha a disposizione, quindi non credo gli state facendo un favore. Prego. E' comunico che ovviamente non mi occupo di rimozione di stroscioni, tanto che ieri notte e una volante della Polizia di Stato a Bergamo, città, ha rimosso, senza che io lo sapessi, uno striscione contro il Sindaco del Partito Democratico, Giorgio Gori. Quindi evidentemente... Io non... Colleghi, possiamo evitare le opposte tifoserie? Perché non siamo allo stadio. Prego. Con tutto il rispetto per tutte le infrazioni al Codice Civile e al Codice Penale, preferisco occuparmi di arresti di mafiosi e spacciatori, che non di rimozioni di striscioni. Detto questo, ognuno... Io ho piena e totale fiducia nell'attività delle questure, delle prefetture, che a Brembate, come a Settimo, come in ogni altra località, garantiscono il pacifico svolgimento di qualsiasi iniziativa di carattere pubblico, anzi, per quello che mi riguarda, più sono colorati e più sono simpatici, più divertenti sono gli striscioni, sono disposto a offrire un bel caffè a chi fa lo striscione più ironico, non tollero minacce di morte, insulti o inviti alla violenza. Quelle non sono libere espressioni... Se per voi è normale che qualcuno scriva Salvini muori, Salvini crepa, sparate a Salvini, Salvini mafiosi... Colleghi, avrete il vostro tempo dopo per la replica, non interrompete il Ministro nel corso del suo intervento, altrimenti sono costretta a richiamarvi all'ordine. Detto questo, ringrazio le forze e l'ordine che stanotte hanno arrestato 17 spacciatori e hanno sequestrato 280 chili di droga. Questa è la sicurezza del Paese. Vi lascio il dibattito sugli striscioni e viva la libertà di espressione, viva i colori, viva i fischietti e viva gli striscioni. Il Ministro ha facoltà di replicare, l'Onorevole Martina, prego. Grazie Presidente. Vede Ministro, ovviamente noi non possiamo essere soddisfatti di quello che lei ha detto qui adesso. Quello che ci importa è portare anche in quest'Aula la preoccupazione per il clima che c'è nel Paese che lei fa finta di non vedere. Quello che ci preoccupa è il clima che viene sottolineato anche da tanti operatori delle forze di polizia che tanto lei osanna quando in giro da più parti a più riprese segnalano l'allarme di un clima di tensione che lei per primo dovrebbe caricarsi sulle spalle proprio per la funzione istituzionale che ha e invece no. Ancora adesso ci ha offerto la plastica rappresentazione di una superficialità disarmante rispetto all'incarico delicato che a lei dovrebbe rendersi conto prima di altri che fare il Ministro dell'Interno e il Segretario di Partito in questo modo non aiuta il Paese. Non è un problema delle opposizioni, è un problema dell'intero Paese e del Governo della Repubblica Italiana in un contesto come questo. Perché guardi, ogni giorno che passa, ogni tappa che fa, è abbastanza evidente che per lei, prima degli italiani, c'è la sua campagna elettorale permanente. E questa è la questione che noi poniamo sollevando anche il tema di queste ore. Noi la invitiamo a rendersi conto di quello che sta accadendo e la invitiamo anche a rispondere del fatto che se un Ministro dell'Interno, con il ruolo delicatissimo che ha, sta al suo Ministero solo per 17 giorni in 4 mesi, c'è un problema. C'è un problema non per le opposizioni, per il Paese. Per il Paese, perché il suo Ministero non è un Ministero qualsiasi. E se si disertano 5 Consigli europei su 6, c'è un problema. Concludo, onorevole Martina. Non per lei, per il Paese che lei rappresenta in quei consensi. Quindi, le diciamo solo questo, rifletta su quello che sta accadendo. Cambi rotta. Non lo faccia per noi, lo faccia per gli italiani. Deve concludere. Risponda all'articolo 54 della Costituzione, quando impegna tutti a essere responsabili ad assolvere alle funzioni istituzionali con disciplina e onore. Io penso che questo tema riguardi anche lei. Noi, ma anche lei. Passiamo all'interrogazione 3.734 dei deputati Siracusano ed altri concernente iniziative di competenza con riguardo alle problematiche proprie dell'area delle baracche abusive nella città di Messina. L'onorevole Siracusano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Signor Ministro Salvini, oggi nel 2019 2.100 famiglie, 6.400 persone nella città di Messina vivono ancora nelle baracche. Si tratta di cittadini messinesi, italiani, non si tratta di immigrati. La baraccopoli si estende per oltre 230.000 metri quadrati, quindi è una vera e propria città di baracche dentro la città. Per rappresentarle la condizione di degrado estremo le illustro qualche immagine, come le capanne costituite da tetti in Eternit, forni a cielo aperto dove giocano i bambini, talvolta si vedono anche i topi fuoriuscire dai water, spazi estremamente angusti. Ecco, questa è una situazione intollerabile. Presidente, Ministro, il Presidente della Regione Musumeci e il Sindaco Cateno De Luca si sono adoperati per chiedere lo stato di emergenza e poteri straordinari connessi allo stato di emergenza e si sono adoperati per consegnare alcuni alloggi, ma ne servono ancora tantissimi e quindi un massiccio intervento da parte dello Stato. Le chiedo, Signor Ministro, quali iniziative intende adottare per sanare questa piaga che affligge la città di Messina. Grazie. Onorevole Morani, per cortesia, rimuovo quel cartello, sa che il regolamento non lo consente. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Chiedo agli assistenti parlamentari di aiutarmi ad eseguire gli ordini della Presidenza. Per favore, grazie. Prego. Prego, Ministro. La ringrazio, Presidente, ma ognuno si diverte come può. Prego, Ministro, risponda all'interrogazione. Colleghi, onorevole Morani, la richiamo all'ordine. Onorevole Rotta, onorevole Scalfarotto. Prego, Ministro. Anche mia figlia di sei anni si diverte con i disegnini. Ministro, non siamo a scuola, però. Anche lei è per cortesia del rispetto dell'aula. Non ricominciamo. Io sono stato in quel quartiere, ci sono alcune situazioni che risalgono al 1908, quindi evidentemente bisogna recuperare qualche anno di inerzia locale, provinciale, regionale, statale. Sono perfettamente al suo fianco nella battaglia di civiltà, di uomini, donne, padri, mandri, nonni e bambini che giocano in mezzo ai topi, senza servizi genici, senza fognature, senza dignità, senza diritti. Dal punto di vista di mia competenza, ovviamente io le posso dare i dati come gestione dell'ordine pubblico perché di quello mi occupo, quindi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, dal 15 gennaio ad oggi sono stati effettuati a curi della Polizia di Stato lì ben 33 servizi mirati che hanno dato luogo a perquisizioni, arresti, denunci a piede libero, sequestri, sostanze stupefacenti, eccetera. C'è un altro lungo elenco di cose che abbiamo fatto per la sicurezza, anche se non è un problema evidentemente di sola sicurezza. La sistemazione alloggiativa delle famiglie che vivono nelle aree degradate impegna in primo luogo le istituzioni territoriali, comuni e regioni. Mi risulta che il Comune di Messina si stia meritoriamente adoperando con la Regione per il reperimento delle somme necessarie per l'acquisto di alloggi, utilizzando anche i fondi dei programmi operativi complementari nazionali città metropolitane. Su questo siamo a disposizione per sostenere questo sforzo in maniera decisa e risoluta. Per parte mia, ovviamente garantisco, non è un mio intervento ma è un mio preciso dovere garantire il massimo impegno sul fronte della sicurezza, da Vicepresidente del Consiglio mi impegno anche a coordinare la maggior convergenza possibile tra le istituzioni statali e territoriali competenti al fine di giungere una soluzione definitiva della questione che restituisca dignità a queste famiglie perché un secolo mi sembra sufficiente per riportare ordine in questa parte stupenda d'Italia. La ringrazio e conto la prossima volta di arrivare con dati ancora più positivi rispetto a quello che sono riuscito a darle oggi. La facoltà di replicare è l'onorevole Siracusano. Prego. Grazie Ministro. Naturalmente non volevo addebitare le responsabilità del passato. La Baraccopoli la ereditiamo appunto dal 1908, il terremoto che distrusse la città di Messina. Però è pur vero che noi non possiamo considerare questo come alibi, dobbiamo andare oltre, dobbiamo rappresentare il cambiamento tutti insieme in questa nuova fase della politica. E' vero, lei ha detto, ha parlato, c'è un problema sanitario ma c'è anche un problema di sicurezza, ovviamente, di criminalità che si insinua in queste zone. Ho fatto un accenno prima allo stato di emergenza che era stato chiesto dalla Regione ed è stato negato perché la protezione civile dice che l'emergenza deve essere connessa a un evento calamitoso. Però effettivamente, Ministro, se 6.400 persone abitano ancora nel 2019 nelle baracche, se questa non è un'emergenza significa che viviamo in uno stato ipocrita. non ce lo possiamo permettere. So che lei è stata a Messina quest'estate, ha detto che ci sarebbe tornato, io la invito a ritornare, a guardare da vicino dentro queste case, queste pseudo case, qual è la situazione che le ho descritto, di trovare insieme delle soluzioni, di combattere ancora, di dare risposte e di essere a fianco all'amministrazione comunale e alla Regione. Ecco, il suo slogan è, appunto, prima gli italiani. Lei ha sgomberato, ha sbaraccato molti campi di immigrati. In questo caso bisogna dire prima i messinesi. Grazie, Ministro. Passiamo all'interrogazione 3.735 dei deputati, Lolo Brigide ed altri, concernente iniziative volte a garantire la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, in specie alla mafia nigeriana, nell'area di Castelvolturno, in provincia di Caserta, con particolare riferimento all'invio di un contingente militare. L'Onorevole Ferro ha facoltà di mostrare l'interrogazione di cui è confermataria. Prego. Grazie, Signora Presidente. Signor Ministro, riferimento alla bambina, a quello che è avvenuto il 3 maggio scorso in pieno centro a Napoli a causa di un agguato di Camorra che pone in drammatica attualità il tema della criminalità a Napoli, come in altri centri sicuramente importanti della Campania e in particolare la zona di Castelvolturno che vive da troppo tempo in uno stato di emergenza e di mancata sicurezza a causa ovviamente della fortissima presenza della mafia nigeriana, battaglia che da sempre ci poniamo nei nostri interventi e nei nostri atti, dedita allo spaccio di droga, alla prostituzione e addirittura al traffico di organi. Una nutrita e una manovolanza, grande manovolanza pressoché infinita, vista la massiccia presenza nella zona degli immigrati africani irregolari, stimati tra i 15.000 e le 25.000 unità. Nella risposta all'atto del sindacato ispettivo numero 5 00165 presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia il 9 gennaio 2019, il Governo ha affermato che accanto all'azione decisa delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria di governo, come è noto e già impegnata nell'area di Castelvolturno, in un'azione di risanamento ad ampio spretto che mira a riaffermare il principio di legalità e a migliorare la situazione ambientale della salute pubblica che consente l'inserimento del tessuto sociale e produttivo degli stranieri. Rispetto anche all'atto che è stato nell'ambito della mozione 10013, noi vogliamo comprendere quali siano stati i motivi per i quali ancora non sia stata adatta attuazione all'impegno approvato e contenuto nella mozione citata in premesse e quali iniziative siano state messe sinora per garantire la sicurezza e il contrasto alla criminalità nell'area di Castelvolturno. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, grazie all'interrogante. Io peraltro domani alle 18.30 sarò a fare il quarto comitato per l'ordine pubblico e sicurezza a Napoli, cosa che nessun Ministro dell'Interno mai fatto in precedenza e nel decreto sicurezza bis sono previsti 800 assunzioni per garantire lo sconto della pena in carcere ai 12.000 condannati che sono in questo momento a spasso per Napoli, perché noi possiamo riempire i poliziotti e i carabinieri tutta Napoli e tutta Italia, ma se questi li arrestano e poi nessuno li mette in galera evidentemente non facciamo fino in fondo il nostro dovere e quindi questo c'è nel decreto sicurezza bis. Per quanto riguarda Castelvolturno e i comuni del litorale Domizio, i numeri dicono che sono complessivamente impiegati 230 militari, Fraterra dei Fuochi, Antidroga e Anticamorra, al contingente di militari di operazione strade sicure si aggiungono anche 18 operatori dei reparti di prevenzione crimine della Polizia di Stato a integrare gli organici presenti sul territorio. Negli ultimi mesi, con cadenza periodica, sono stati svolti appositi servizi interforze mirati alla repressione del fenomeno dello traffico di stupefacenti, di cui lei ovviamente parlava con impiego in ciascuna di queste occasioni di almeno 30 operatori delle forze di polizia e quindi io ringrazio il prefetto di Casetta e le autorità che con gli uomini in mezzo a disposizione stanno combattendo in prima linea. Chiederò alla collega, da cui dipende evidentemente l'operazione strade sicure e l'invio di militari, di fare ancora di più e questo lo farò per iscritto oggi stesso. Ringrazio la comunità locale che resiste e reagisce a livello di parrocchia, a livello di volontariato, a livello di famiglie perché non è solo un problema di ordine pubblico e sulla mafia nigeriana sono d'accordo con lei, mi auguro che anche i tribunali squarcino un velo di silenzio che da troppi anni sta coprendo non solo a Castelvolturno ma anche in altre province italiane, quella che ormai purtroppo è una vera e propria radicazione mafiosa nigeriana che arriva dall'altra parte del continente. Anche per questo motivo controllare chi sbarca in Italia evidentemente fa parte non di un mio diritto ma di un mio dovere da Ministro dell'Interno. Grazie signor Ministro. Mi fivo anche a quell'atto proprio di cui lei ha fatto riferimento del 27 febbraio dove insomma rispetto anche a quella mozione da parte del gruppo di Fratelli Italia dove cercavamo ovviamente all'interno di Castelvolturno che ci fosse veramente un contingente militare che riguardano ovviamente anche il di Castelo da parte della sua collega che si era detta disponibile ma dove troppo spesso poi le asserzioni e comunque le idee non diventano azioni. Certamente c'è una grande preoccupazione come lei ha voluto sottolineare non riguarda soltanto la Campania piuttosto che Castelvolturno. La mafia nigeriana ha messo sicuramente le mani ovunque anche con quei patti di non belligeranza con le nostre mafie italiane ma resta ancora in qualche modo un organico rispetto anche all'impegno delle forze armate e delle forze dell'ordine. Sicuramente ingazziamo anche noi il prefetto troppo piccolo per poter fronteggiare quello che in questo momento anche da tante croneache nazionali viene fuori. Io sottolineavo il problema nello spaccio di droga piuttosto che della prostituzione ma sottolineavo anche il traffico di organi dove per la prima volta abbiamo una donna pentita che scende in campo a sottolineare che per soltanto la vendita di un roene si paga 5.000 euro. E anche rispetto a quello che poi in qualche modo la gente chiede che ci ha sempre sottolineato quella ricerca di sicurezza che forse ci ha visti anche un po' insoddisfatti in una battaglia molte volte signor Ministro solitaria di Fratelli d'Italia. Quindi io ovviamente mi ritengo parzialmente soddisfatta, sono certa che in un prossimo question time ci saranno dati più confortanti rispetto agli uomini messi in campo, rispetto anche a quello che abbiamo sempre promesso ai cittadini italiani in sicurezza ma soprattutto anche con devo dire l'autorevolezza e la serietà di un gruppo come quello a cui appartengono i Fratelli d'Italia che non rimarrà a guardare silenzioso certamente aspettando in questo caso un'altra ragazzina essere sacrificata sull'alterare del politicamente corretto. Grazie. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.